Leonardo durante 51 anni, ingegnere palermitano e Mirko Cazzato, 20 anni di Lecce, tra i premiati del Global Teacher Prize e del Global Student Prize, una sorta di Nobel per il miglior professore e studenti al mondo, annunciati a Parigi il 10 novembre scorso. Mirko Cazzato, unico studente europeo, si è classificato nella Top 10 grazie al suo impegno contro il bullismo, il suo merito quello di aver fondato già 14 anni, ma basta, movimento anti-bullismo animato da studenti adolescenti e non avere mai abbandonato questa sua missione sociale, visitando decine di scuole e interagendo con oltre 600 classi. Anche Papa Francesco e il Presidente Mattarella hanno voluto conoscerlo. Leonardo Durante, docente di sistemi automatici presso l'Istituto Enrico Fermi di Roma, è stato scelto per la sua didattica innovativa, l'entusiasmo che trasmette agli studenti e il desiderio di realizzare pratiche e invenzioni, fra queste un casco con frecce di svolta, un carrello che aiuta gli anziani e un robot che riconosce i rifiuti e li ricicla. È stato nominato Global Teacher Prize Ambassador e sarà impegnato a diffondere i suoi metodi innovativi nel mondo.